I conti PAM e MAM nel Forex. Potreste aver sentito parlare di conti PAM per il Forex Trading e potreste aver anche chiesto cosa sono. In sostanza un conto PAM permette ad un trader, il manager, di fare trading per conto di altri investitori che non sono coinvolti attivamente nel Forex Trading. In un certo senso si può pensare a questo come qualcosa di simile al modo in cui i fondi del mercato azionario comunemente funzionano, anche se ci sono alcune differenze significative. Come funziona un conto PAM? Prima di tutto un manager apre il conto e designa una parte del suo investimento come capitale del gestore. Il gestore non è in grado di effettuare prelievi nei confronti di questo capitale, che ha lo scopo di assicurare ai potenziali investitori che l'account sarà gestito in modo responsabile. Il manager poi pubblicizza il rendimento del conto, insieme alle condizioni offerte ad altri investitori che vogliono aderire, per esempio, e la quantità dei profitti del gestore saranno trattenuti per la negoziazione per conto dell'investitore. Questo è in genere fatto attraverso il broker Forex che agisce come garante della trasparenza e della sicurezza del PAM, ma non è responsabile di eventuali perdite. Gli investitori decidono di investire in conti particolari e gli utili o le perdite sono poi ripartiti alla fine di ciascun periodo di scambio tra il gestore e gli altri investitori. I broker Forex può somministrare la distribuzione dei fondi agendo sia come regolatore che come una sorta di servizio di deposito a garanzia. Quali sono i vantaggi di conti PAM per i manager? Per i commercianti di successo i vantaggi di un conto PAM sono abbastanza evidenti. Da loro la possibilità di agire come account manager, fare profitti non solo al di fuori del proprio denaro, ma anche al di fuori dei trade che eseguono per conto dei loro investitori. Essi sono anche in grado di fissare le proprie condizioni, dando loro, quindi, un certo grado di controllo sulle condizioni commerciali, ad esempio, su come vengono redistribuiti i profitti e su quale sarà il periodo di scambio. Poiché i fondi sono distribuiti automaticamente questo esclude anche qualsiasi rischio per l'account manager derivanti da frodi per conto degli investitori. Quali sono i vantaggi dei conti PAM per gli investitori? Per gli investitori un account PAM ha molteplici vantaggi. In primo luogo essi beneficiano del nuovo commerciale di un manager di successo ed in secondo luogo si può recedere dal PAM in qualsiasi momento, se siamo insoddisfatti di come l'account manager sta eseguendo il proprio lavoro. In terzo luogo, essi possono diversificare i propri investimenti su più PAM riducendone così il rischio. Infine sono anche protetti dalle frodi causate dal meccanismo automatico di distribuzione dei fondi. Chi offre conti PAM barra MAM Forex? In Italia ed in Europa non ci sono broker validi in grado di offrire conti PAM ma tuttavia se sei alla ricerca di un gestore di conti PAM e MAM abbiamo trovato la soluzione per te con geniale. Il broker australiano FP Markets è considerato da noi e ci sentiamo pertanto di consigliare a tutti coloro che sono interessati ad avviare una gestione di conti PAM barra MAM nel Forex Trading e altri sottostanti. FP Markets, dotato di licenza ASIC da oltre 14 anni, mette a disposizione una soluzione di multi-account manager MAM barra PAM le cui caratteristiche principali sono Possibilità di negoziare Forex e CFD Metodi di assegnazione di lotti, equiti e percentuali Allocazioni istantanee Modifica dei parametri in tempo reale Nessun limite di depositi e account gestiti Tutti i tipi di ordine accettati Il cuore dell'offerta trading del broker australiano FP Markets dedicato ai conti MAM barra PAM è la flessibilità cui gestiti le allocazioni dei multi-account manager e dei percent allocation management model disponibili. FP Markets offre una vera rete di comunicazione elettronica ECN dotato da un sistema completamente liquido e spreads ridotti che consentono ai gestori dei fondi di godere di ampi volumi di negoziazione al prezzo richiesto. Sia l'MAM che i PAM possono quindi fornire ai manager il controllo diretto di cui hanno bisogno per massimizzarne i profitti. Unti di forza dei conti PAM barra MAM di FP Markets Una breve sintesi Numerosi metodi di allocazione commerciale disponibili, inclusi equiti, lotte per cento percentage. Possibilità di utilizzo su tutti i tipi di account s'assegnazione istantanea delle transazioni dal master MAM agli account sub-MAM. Possibilità di modificare i parametri di trading in tempo reale. Nessun limite per depositi e numero di conti trading gestiti. Tutti i tipi di ordine inclusi limite, stop e mercato sono tutti accettati. La possibilità di monitorare prestazioni e commissioni in tempo reale. La possibilità di monitorare la gestione degli ordini in tempo reale all'interno della struttura MAM.